Ehi Siri, tra due minuti ricordami di mandarmi le risposte. Tutti i giorni noi intervistiamo il nostro assistente vocale, sia Siri, Google, Alexa, Vata alla Pesca, qualsiasi strumento. Lo intervistiamo per chiedergli informazioni, per chiedergli una risposta. Oppure loro, in modo un po' più subdolo, ci studiano i nostri comportamenti, le nostre azioni, i nostri gusti, per pian piano iniziare a proporci loro dei contenuti, piuttosto che dei film, della musica. E quindi loro iniziano a fare esperienza del nostro modo di interagire con questi strumenti e iniziano, pian piano, a suggerirci delle strade o a condizionarci. Facciamo un po' di storia. Non la prendo così alla larga. Questo per dire che una volta Siri, Alexa, si chiamava, tipo, una marca poteva essere la Pizia. La Pizia era un oracolo. Era un oracolo dove i re andavano davanti a prostrarsi e gli chiedevano informazioni sul loro futuro, sul loro passato, piuttosto che sul loro presente. E anche la Pizia dava delle indicazioni, dava delle risposte. Leggeva i dati, interpretava e dava delle visioni di futuro. Quindi bene o male l'intelligenza artificiale era già un concetto che anche nell'antica Grecia esisteva. Peccato però che a volte il modello, tipo dell'epoca, la Pizia, poteva commettere dei grandi errori, piuttosto che altri modelli di grandi oracoli. E quindi, ad esempio, è un caso la fine tragica di Edipo. Questo è interessante perché comunque anche oggi l'uomo si pone nello stesso modo davanti a questi strumenti, un po' come fossero degli oracoli. Non si interroga intanto troppo sui processi che sono dietro alle risposte che riceviamo, ma ci approcciamo come fossero dei nuovi oracoli. Non si chiamano più la Pizia, ma si chiamano machine learning, intelligenza artificiale, deep learning, termini molto belli, molto aulici, che sembrano affascinanti ma allo stesso tempo potrebbero anche tenere una giusta distanza, essere quasi voluti per tenere una distanza tra gli specialisti, i nerd, un'elite di persone che conosce davvero cosa c'è dentro, e le persone normali che ne usufruiscono. Ah, grazie Siri. Tanto sono arrivate le risposte, e le risposte alla domanda che avrei voluto fare a voi. Perché volevo sapere alcune caratteristiche della platea. Cosa che succede spesso nei TED è proprio iniziare facendo una domanda al pubblico per ingaggiarlo maggiormente. Ecco, io non sono riuscito a farla perché avendo degli strumenti di intelligenza artificiale e sapendo la presenza delle persone oggi potevo già sapere qualsiasi cosa su di voi. A parte gli scherzi, questo è interessante, però questa è una cosa che si potrebbe fare con gli strumenti giusti, con più dati, quindi sapere dei dettagli, che attualmente forse vi sembra una domanda stupida con delle risposte tanto stupide, però potrebbero tornarci utili nel corso della presentazione. Questo per dire che oggi noi siamo abituati a ricevere delle risposte che ci possono stupire, che hanno quasi dell'intuizione su come siamo fatti, perché raccolgono dei dati da qualsiasi piattaforma, da qualsiasi modo, e ci interroghiamo forse poco. Allora vorrei raccontarvi un po' la storia del gruppo con cui lavoro. Sono 30 ragazzi da Modena con cui stiamo cercando di rendere l'intelligenza artificiale un qualcosa di tangibile alle persone. Abbiamo individuato due aspetti che secondo noi l'intelligenza artificiale sarebbe bene tenesse in considerazione nel suo sviluppo. Il primo aspetto è l'inclusività, perché l'intelligenza artificiale non è altro che una black box. Entrano dei dati, vengono elaborati, escono dei dati più evoluti, con delle risposte molto più accurate rispetto a quello che riusciremo a fare noi su certi tipi di applicazioni. Però pochi si interrogano cosa accade dentro. A me viene in mente un po' Mary Poppins quando estrae tutti gli elementi della sua borsa. Io da bimbo, mi ricordo, rimanevo affascinato e anche il bimbo del film va a vedere cosa c'è dentro, va a vedere qual è il segreto. Ecco, oggi secondo noi dovrebbe essere maggiormente inclusiva l'intelligenza artificiale. Invece rimane il dominio di pochi esperti, di pochi tecnici e la gente si pone sempre un po' come una sorta di oracolo. Il secondo aspetto è la sensibilità, perché occorre rendere sensibile ai sensi delle persone normali tutto ciò che è la sensibilità dei matematici. I matematici sviluppano matematiche, prendono nuvole di dati, fanno algoritmi predittivi, modelli e così via. Ecco, tutti questi concetti vanno resi tangibili. E quindi bisogna trovare un modo per ingaggiare le persone perché possano comprendere come avviene questo processo. Ora, un paio di minuti di matematica, giusto per tenere l'attenzione. facciamo finta di avere un processo e un nostro obiettivo da raggiungere, un risultato. Potrebbe essere anche una nostra decisione nella nostra vita quotidiana, no? Abbiamo un processo mentale, dobbiamo prendere una decisione. Abbiamo un processo industriale, dobbiamo massimizzare il rendimento. Dobbiamo diminuire lo spreco, controllare l'energia e bla bla bla. Solitamente il nostro cervello come funziona? Il nostro cervello si concentra su una correlazione principale o poche correlazioni principali. E noi chiamiamo correlazioni forti. Tendiamo a vedere quelle. Pensate anche quante volte noi prendiamo delle scelte basandosi su delle correlazioni forti. Ma alla lunga le correlazioni forti diventano un dato autoreferenziale. E un dato autoreferenziale ci porta l'informazione, e non la conoscenza. E questa c'è una grande differenza. Un dato autoreferenziale non mi permette di poter fare delle analisi predictive, di prendere decisioni. Ma io mi baso su quelle. Tante volte le nostre scelte, che siano lavorative, personali, sono basate su questi fattori dominanti. Oggi, con tutta la disponibilità di dati che ci sono e con tutta l'attenzione che possiamo prestare a questi nuovi processi, si possono raccogliere tanti dati che gravitano intorno ai processi che ci portano a prendere una decisione o che dobbiamo controllare. Ecco, l'obiettivo nostro è far sì di cercare di rendere il dato da autoreferenziale a un dato relazionale. È un gioco di parole, ma vuol dire passare ad avere un'informazione, ad avere la conoscenza. Perché solo nel momento in cui io riesco a relazionare dei dati, ho la conoscenza. Questo tema pone tanti altri aspetti importanti che non sta mai a trattarli, ma sarà interessante indagare e approfondire in futuro, cioè la qualità dei dati, oppure chi dà i dati, o di chi sono i dati. Però questo è un altro tema. Noi, per cercare di passare da questa filosofia che abbiamo un po' raccontato ad alto livello, ma per renderla concreta e mettere davanti le persone alle proprie variabili che caratterizzano il loro processo, abbiamo sviluppato uno strumento che abbiamo chiamato quadro di dati. Come funziona? Ogni riga, ogni colonna rappresenta una variabile. Una variabile che, chiaramente, rappresenta la fenomenologia del processo che vogliamo studiare. Sull'asse dell'Y, nell'asse delle X, sono riportate le stesse variabili. Abbiamo avuto l'idea di graficare, in rosso, le correlazioni dirette. Una variabile aumenta, l'altra aumenta, in modo lineare. In blu, le correlazioni inverse. Una variabile aumenta, l'altra diminuisce, sempre in modo lineare. Qui sono state graficate le correlazioni forti. Quelle che, bene o male, la nostra mente riesce a vedere in questo determinato processo. In questo caso, è un processo industriale. Sono i dati, ma potrebbe essere anche un processo transazionale, oppure un processo che ci porta alla nostra scelta della nostra vita. Oppure quello che ci fa sì che noi interroghiamo i nostri assistenti virtuali. Poi, grazie a una matematica che sviluppiamo, abbiamo estratto le correlazioni deboli. Quelle che il nostro cervello fa fatica a vedere, a concentrarsi. Più, quindi questi quadrati più piccoli, rappresentano delle correlazioni meno forti. Quelle che, veramente, il nostro cervello in apparenza sembra non considerare. E in giallo, abbiamo graficato le correlazioni non lineari. Quelle ancora più complesse da modellare. Quindi una variabile aumenta e l'altra fa delle S. Ecco, questo quadro di dati, quando lo mettiamo davanti a una persona che governa un processo o che deve prendere una decisione, è molto interessante perché è il momento in cui c'è un contatto tra il mondo scientifico tra la sensibilità matematica e la sensibilità visiva dei sensi delle persone. Una volta spiegato la leggenda di questo quadro, chiunque riesce a interpretare e riesce a vedere le sue variabili, il suo sistema, e lui stesso viene ingaggiato e incluso in questo processo matematico. La complessità rimane dietro, chiaramente. La complessità non è di suo dominio, ma la complessità trova un punto di contatto per ingaggiare l'uomo in questo sviluppo che sarà sempre più dirompente. Quindi viene un po' rotta quella borsa di Mary Poppins e vengono svelati un po' quali sono le correlazioni che nella borsa di Mary Poppins generano il lampadario piuttosto che lo specchio. Una volta, quando abbiamo messo questo grafico davanti a una persona che governava un processo, ho detto mi sembra come di colpo di guardare un materiale, guardarlo prima con l'occhio e poi passare al microscopio. Perché entro nella struttura della materia, in questo caso entro nella struttura dei dati. Vi faccio un esempio. Questo è molto simpatico, ma lo racconto in modo adatto a un TED. E ero in una scuola e stavo raccontando più o meno cosa sviluppiamo e cosa facciamo. Allora mi è venuto in mente di raccontare un'esperienza della mia vita personale, ma che fosse tangibile anche a loro. Ho detto, ok ragazzi, facciamo finta che in questa classe, in questo momento, passi un ragazzo o una ragazza con i classici canoni della bellezza. Tutti li guardiamo, tutti ci giriamo, e anche se passano delle ore, se il nostro cervello li vuole riportare alla nostra mente, li ricostruiamo bene. Proprio perché si basa su quei canoni dominanti, i classici della bellezza. Però a me sinceramente non mi direbbe niente, non più di tanto. Poi, casomai, dopo passa una ragazza che nessuno nota. Io rimango folgorato. Le noti dopo non penso ad altro, scrivo lettere d'amore, ascolto poesie estruggenti, ascolto musica deprimente, e penso a lei innamorato, perso. Ma nessuno l'ha notata. E lei non portava quelle correlazioni forti. Però il suo charme, queste correlazioni deboli per il mio cervello, per il mio modo di essere, mi hanno totalmente colpito. E mi descrivono molto meglio, e mi rappresentano come entità Fabio rispetto a voi, perché è il suo modo di camminare, il suo modo di parlare, di mettersi a posto i capelli, di sistemarsi gli occhiali, mi hanno colpito. Ecco, tutte queste correlazioni deboli sono un patrimonio di informazione che, oltre a descrivere bene me, se venisse graficato con un quadro di dati messo davanti a una persona che deve decidere come gestire Fabio, avrebbe chiaro tutto. Avrebbe molto più chiaro chi è Fabio. E sarei una peculiarità. Quindi avrei tutte le mie caratteristiche. E quindi potrei fare degli algoritmi predittivi sui miei comportamenti, capire con quali persone potrei andare d'accordo o meno. Ecco, poi il discorso è degenerato nella scuola però. Però, rimanendo ai temi da Ted, ecco, lo charme, questa correlazione debole, ha influito. Questi processi, oggi, cioè di includere le persone nello sviluppo dell'intelligenza artificiale piuttosto che di questa analisi di grandi dati che non sempre è intelligenza artificiale. Sicuramente è molto bello dire intelligenza artificiale, ma ci sono tanti metodi efficaci. Noi oggi lo applichiamo nel marketing, applicato nel trading, piuttosto che nei processi industriali. Ma ogni tanto mi capita di pensare quanto sarebbe interessante se fosse applicato anche nella politica. Se un governo che deve prendere una decisione o attuare un piano politico avesse davanti non solo le correlazioni forti di una determinata scelta, ma anche tutte le correlazioni deboli. Si potrebbero mettere anche i cittadini nelle condizioni di comprendere meglio una decisione da prendere. La politica tornerebbe ad essere sensibile, tornerebbe ad essere anche inclusiva per tante persone che hanno un approccio forse più matematico. Ecco, tutto questo sviluppo è abbastanza ancora alle prime armi. È tutta la vita che sogno di andare sul palco con i Pink Floyd. Quindi questo l'ho fatto quasi più per me. Noi siamo alle prime armi in questo settore e quindi perché porti Pink Floyd? Oltre ad essere per me una correlazione forte e debole e rappresentano un po' un gruppo musicale che in una Londra degli anni 70 underground ha portato un nuovo suono, un suono prog, il rock prog. Hanno iniziato a fondere gli strumenti classici con gli strumenti elettronici. Lavoravano sul sintetizzatore, sperimentavano sonorità nuove. La loro sperimentazione all'inizio era un po' distonica e all'epoca c'era Sid Barrett e fecero dei primi album incredibili. E sperimentavano, sperimentavano, fino a che non hanno trovato una armonia che potesse includere l'aspetto elettronico, il rock prog col rock classico, fino ad arrivare a creare una The Dark Side of the Moon, che è un capolavoro oltre che musicale, anche di matematica, perché sono 24 tracce sovrapposte e tanti aspetti matematici nella gestione di questa nuova concept album. Ecco, mi auguro che anche oggi ci siano tanti Sid Barrett che sperimentino l'intelligenza artificiale con l'obiettivo di arrivare a scrivere un nuovo concept album che includa l'uomo nello sviluppo di questa nuova tecnologia che sarà sicuramente più dirompente del rock prog. Grazie.